Ciao a tutti ragazzi, siamo a Portogruaro e siamo venuti dello Sguerzi. Finalmente ci siamo riusciti a ritornare dopo un mese che dovevamo venire. È finito il periodo delle nebbie? Sì, si spera. Sì, più o meno. Bene, lo Sguerzi è dietro di noi, noi siamo seduti in una pantchina di fronte, praticamente sulla piazza. Piazza, sì. Ci siamo presi un bel paio di Ferrari Dry e abbiamo speso 12 euro. Vabbè, siamo allo Sguerzi, eh? È proprio piccolo, costa mica pochi, eh? 6 euro a pato, inizio. Vabbè, è opinabile la cosa, diciamo che non vanno leggeri, però... Sì, d'accordo, era solo un Ferrari, eh? No, vabbè, dai, 4-5 euro lo paghi il Ferrari, in effetti. Eh, quindi? Sì, dai, ci sta. Vabbè, è un locale molto, molto pieno di gente, perché è un martedì sera ed è strapieno. Facevano una specie di degustazione, noi siamo arrivati che si poteva fare la degustazione ma non c'era il buffet, era il risotto con lo champagne, vabbè, è troppo tardi. E poi c'era questa cosa strana e particolare dello scambio ambiti. Organizzano, credo, una società, non lo so, una cosa esterna, che organizza questo evento, per cui le persone arrivano qui con tre vestiti e possono scambiarlo con altre persone che hanno portato altri vestiti, vestiti accessori. Cosa c'è da dire sullo sguerzi? Commento a caldo. Il locale è da fighetti? Eh sì, allora, premesso che il locale è carino, si beve bene, c'è bella musica, c'è il DJ, quindi non gli manca assolutamente nulla. Non è il mio genere di locale, però è una mia opinione. Esattamente, un po' come è stato per il Tre Vissa, anche per noi lo sguerzi non rientra nei nostri gusti. Poi è molto di tendenza e sì, se uno vuole venire a Porto Gruaro e venire a bere qualcosa qui, consigliato, si beve bene decisamente. Il Ferrari era buono, il calice era freddato, quindi le cose fatte bene, come si devono fare. Il servizio? Inecepibile, non c'è poco da fare. Ok, sta alla simpatia, forse la gente che lo frequenta anche magari. È la simpatia dei privaristi? Sì, è un po' tutto, diciamo che si mescolano le due cose, non è un locale in cui tornerei. Tutto qui. Ma ribadiamo, il locale è molto bello? Sì, c'è nulla da dire, il locale è bello, un bel arredamento, attenzione per anche le mostre di quadri. Hanno il DJ, quindi sono veramente attenti al... Cos'è che stavi dicendo? Stavo dicendo che... Le mostre di quadri... Sì, ma io non è che devo essere ripresa da vicino. Dai, mi si vedono persino i punti neri. Eh? Vabbè, ho un bell'occhio però. Cos'è che hai bevuto stasera? Un Ferrari. Ciao Stefano. Eh beh, cos'è, è un bicchiere di vino, eh? Eh? È un bicchiere di vino, ho mangiato a casa, non neanche ho mangiato patatino stifezze. Ma tu non sei a dieta? Sì, ma che posso vivere a dieta, eh? Vivi a dieta? No, no, vivo a dieta. Uffa, non mi riesci a farla incazzare stasera. No, vabbè. Intanto si è fatto un'ora di sonno a tua strada. Vedi che faccio riposata, infatti che ho... Eh, infatti, vedi, vedi. Sbadiglia? No. Che insomma mi si vede l'ungola. No, vabbè, comunque dicevamo che lo sguarzi è un posto... Aspetta, perché devi fare il cretino? No, mi sono un po' accasciato, guarda che c'è un mal di schiena. Lo sguarzi è un posto veramente... È carino, è un bel locale e a chi piacciono i locali modaioli è assolutamente consigliato. A noi che non piacciono i locali modaioli lasciate stare. A noi? A noi, sì. A voi? Se siete come noi a cui non piacciono i locali modaioli lasciate stare. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Quindi, da Portogruaro, sguarzi. Per noi è tutto. Buona giornata a tutti.